Il marcio si può rimuovere con la bellezza. Nuove emozioni che ispirano componimenti e versetti. Il dolore diviene origine. L'indifferenza, attenzione. Elementi che, fondendosi, creano soddisfazione. Così ogni alba è una sfida irradiata da consapevolezza che straborda sul foglio bianco, riempiendolo di vita e speranze. La matita scorre veloce, mentre la mente elabora forme e immagina il loro sposalizio con i colori. Unione perfetta. Armonia e bellezza che allontanano il marciume della società e dell'animo, sostituendolo. Bentornata, ispirazione.